buongiorno a tutti ragazzi ultimo capitolo di uncharted 4 dobbiamo assolutamente finire il gioco allora dunque dobbiamo salvare Sam perchè è entrato nella nave e stanno entrando però anche ok ok le cose stanno andando peggio del previsto qualcosa è esploso non è mai un buon segno ancora le mumiette le bane credo perché magari non ci ha messo una bomba direttamente ecco cos'è un indizio a shoreline ok per fortuna non era Sam che cavo ancora la nave non è messa nella migliore delle posizioni va bene non è il momento di farla tremare ah porca puttana quanti soldi c'aveva sto qua eh quanto pesava una nave del genere cazzo pesa più del mare con tutto sto oro dentro e scompline che non ci ha collassata su se stessa di qua credo ok qua deve essere l'estiva dove tiene il tesoro completo però pieno di soldi eh dov'è Sam ah no Rafe dobbiamo finire da non è il posto migliore per speratore va bene ok è vivo per fortuna perché no perché me ne frega del terrore ma che cavolo vuoi appunto non è il momento per finirla a pistola eh no Rafe eh no in due no e che cazzo c'è qualcosa che mi fa vero che cosa vorresti insiguare sì ok senti tagliare la pistola e va a fa un culo ok e adesso che cavolo facciamo senza niente ok cominciavo sospettavo questo tradimento però prima o poi doveva succedere non te lo chiedo di nuovo lo sguardo perso nei suoi occhi una sciocchezza che cos'è Cristo si sono due scheletri ma chi sono esatto eh già come il luminec io appunto su una vera e ti ho cattro si sono ammazzati buon per loro ma sapevo che finiva in quel testo in sto modo qua c'è si te ne vai e basta ma la porta lasciano aperta almeno ecco ok non credo che si possa sfondare a pugni quindi chiamiamo di salvar Sam che non sappiamo neanche se è vivo che porre come faccio come no e funziona si che funziona così oh dammi una cazzo di mano e io ti do una cazzo di mano con la porta va bene che si ok ma perché dobbiamo fare prova di schermo qui dai e se non vale che va a poco inutile stronzo senza di lui tu non lo saresti qui lo sai ok ok come minchia facciamo è una follia per chi è una follia si schiva attacchi ok ho capito ho capito ok 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 non possiamo prendere la spada che qua ah merda si si lo so lo so cavolo ok non si non è il momento di di combattere la spada non credi non sappiamo non è il momento migliore possiamo smetterla vogliamo cadere anche noi con la nave si vabbè mi ha capito che sei un fallito che non ha fatto un cazzo però sei un riccone dello schifo ma almeno possiamo andarcene c'è abbi pietà hai una spada in mano oh bravo eh visto che devi reagire cazzo eh tutto quanto hai sacrificato tutto e i soldi non ce li hanno però hai finito tutti una giornalista fallita ok ci stai andando pesante con le parole qua eh aia no non me l'aspettavo che finale no ok non dovevo finirla così che facciamo non mi l'aspettavo di dover premere il pulsante che fa sto rompendo il tasto che un truffatore decrepito ok ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ok qua finirà spada contro spada tipo dark souls o qualsiasi altro gioco cazzone eh vabbè ma mi fa non riesco a capire che attacchi fa mi fa le rotoline e dai no se attacchiamo non faremo mai niente ecco ora dobbiamo ma perchè lo prendi a pugni non le spadate no bisogna contro attaccare se no adesso 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 due bottaglie e le guanna distratto l'abbiamo preso aia mi ha preso e si sono concentrato si ma non possiamo andare ad attacco ah l'abbiamo preso bene e dai dobbiamo stradirlo in qualche modo no quel cavolo che ne usciamo qua qua ecco ora 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 si ma non possiamo prendere a pugni oh festata sul piede preso e e aio si sta facendo complicata la cosa ma che stavo a dire che ho subito il peggio ecco qua adesso dobbiamo prenderlo interessante ok ok continuiamo a colpirlo e lui non potrà colpire a noi ok come non ho detto ecco un due e no capo forse sentirei un po' male mi sentirei più teno oh finalmente sì ma di affondo dobbiamo andare non di taglio sennò col cavolo ok 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 mi sono distratto un attimo bene mi sono distratto un attimo e mi ha ridotto male e mi ha ridotto i suoi ah per aver avuto quella squadra e dai e muori e dai e muori aspetta aspetta non dobbiamo essere avili con i colpi se no ci frega ecco qua possiamo finirla qui avanti servirò la tua testa su un piatto d'argento va bene eh cazzo è stato bravo patetico sì sì con la spada sono una merda io intanto ti stavo per fottere ok appena in tempo sì dai riesco ancora sì dai e non sono totalmente rincoglionito ah tu hai sim esatto tu sì io no quindi mi sono meritato tutto e dai cazzo come hai fatto a spaccarmi da spada è stato ok ecco qua bella trovata io non ci sarei arrivato ok ora che sto ora che sto maniaco è morto possiamo ritare assieme come è troppo bevante inutile 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 chi io non ti lascio sto qui a morire non possiamo lasciarlo qua abbiamo che ne so senti o scappi o non lo so cosa che vuoi fare quel canno aereo sei rimbambito ah l'acqua eh però eh funziona non so come abbia fatto ma disalto ora dobbiamo andarcene oh che bella nave che peccato che si è fondata ok ora dobbiamo ma non sta crollando tutta la nave sta crollando la grotta intera ma perché un'anciata deve finire a sembrare così perché deve sempre a spogliare tutto non può finire con una buona chiacchierata no ecco la vera e deve decidere la vera ci copre cazzo oh per fortuna può sempre che non ci crolli tutto addosso oh guardate la nave un'ultima volta e ora andiamo ok eh porca droia porca droia si ok si è sopravvissuti eravamo in quattro ma una se n'è andata e l'altra è morta che fine ha fatto Nadine mmm ma non si saprà mai ok questa cosa e anche il suo capitolo è finito credo ma peccato per il tesoro che ce n'è andato potevamo prendere qualcosina ora possiamo finalmente tornarsene tranquilli a casa avete preso tutto va bene oh vendilo pure allora niente strappo si è come si moglie a casa oh mi saldo servizio bar e suddili e reclinabili ma però ecco ne si lo immagino e non chiamare di notte dicendo che è l'ultima volta non chiamare di notte dicendo che è l'ultima volta fatti sentire periodo da mago mago periodo da mago ah io fanno testone adesso eh io volevo salvarti il cazzo tu vai il tesoro ti vai a ammazzare e poi sono io a testarlo ciminiera non è per quello si è anche per quello lo decidi eh sentito invece vuoto eh già è normale ti lascia sempre quella sensazione prima o poi devi decidere a cosa tieni davvero e cosa lasciarti alla spalla che si è anche per il conto oltretutto sei ancora in vantaggio in quanto a città qui e città mi sa che fine farà non fare nulla che io non farei tipo non fare esplodere navi non fare non che ne so non dire tre aerei queste cose qua due ciminiere a posto lavoretto interessante con quella gente sì con quella gente sì più o meno in prigione si impara un portoghese adesso che ancora scartoffie ho la buona vecchia vita di merda perché lo è davvero? cosa sei? allora molto meglio sto per vendere la Jameson Marene ah vendi la Jameson Marene davvero e io che faccio? suppongo di doverti fare i complimenti no non ancora ma confido che l'affare va nel mondo ok hanno tirato sul prezzo finisci il lavoro eh bastardo andare a pescare il più possibile vabbè oh ah beh però a me tocca stare qua a schifare cosa? sei tu? io ho comprato cosa? quando? aspetta aspetta un attimo mi stai brigando per Ero ubriaco quando l'ho fatto. Un investimento volato? Si, lo regalano, sembra, no? Eh, che, che, mi spieghi perché? Ah, tu stai comprando la James Sun Marine? Io no. Ancora lavori malesi? Abbiamo i permessi? Ok, i permessi ce l'abbiamo. Avventi, si. Alcuni dei miei vecchi contatti si sono lavorati ben bene di più su autorizzazioni maligie. Eh, sì. La cosa bella è che non ne hanno corrosso nessuno. Beh, meglio così perché non ho idea di come potremmo permetterci di farlo. Ecco. Apri la mano. Cosa? Apri la mano. Apri la mano. Che, che cos'è? Cos'è? Le monete di Avery. Wow. C'è anche il bastardo. Come ha fatto a prendere le tute? C'è, come ha fatto a prenderle più che altro? Questa qua compra cose senza che io sappia niente. Una vita normale è però qua c'è un, come dire, non so come spiegarlo. Vedi, quando ero su quell'isola, mancava l'avventura. La nostra vita. E ora abbiamo l'occasione di fare quello che animamo. Questa è un'occasione di fare, non so come spiegarlo, non so come spiegarlo, non so come spiegarlo, non so come spiegarlo, non so come spiegarlo. Questa cosa è un'occasione di fare, non so come spiegarlo. Non so come spiegarlo. Cosa? No, 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 no. Voglio essere quello che provvima la pensione anticipata di Jameson. Sarà tutto il problema. Non so come spiegarlo. Non sarà facile, sai? Conta basta con la contabilità e con le riprese lo lasciamo fare il cane no potremmo giocarcela esatto almeno fino a 11 oh ancora cresce però non finirò mai sto gioco non riuscirò mai a battere il record faccio troppo cagare a questo gioco come avete visto nei primi gameplay io faccio davvero cagare a questo gioco non so da quant'è c'è ho perso perso e che cavolo e ho sbagliato dei pulsanti ma sono abituato a giocare con la ps4 ho perso la prospettiva non si capisce un cavolo ho preso è piuttosto ok qua è piuttosto facile perché ce ne sono solo due di bueroni eh non si capisce niente questa prospettiva qua ok qua siamo un po' più difficili sì ci son già ecco già 4 5 wow occhio anche gli ostacoli ancora quando finisce quando finisce ok ok checkpoint e sto sto rompendo il tasto sto rompendo la ferzetola controllo sto premendo. Cerchiamo di evitare questi cosi. Quanti punti sto facendo? Wow questo è grande, questo è un burrone. Ok ok ce lo stiamo facendo, ce lo stiamo facendo. Oh mio Dio ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Come l'abbiamo fatta? No quasi, dai abbiamo finito il livello, non è male, per la prima volta ce l'abbiamo fatta. E non è la stessa stanza, oh sì, non è la stessa stanza vera. Perché c'è un cane? Perché c'è? Che cavolo è questa? Ah credo sia la loro figlia e un cane. Dove sono chi? Ok andiamo a cercarli. Ok epilogo. Non c'è nessuno. Oh se abbiamo il cane che... qua non c'è niente. Il cane si sdraia. Qua non c'è niente. Dai no. Aspetta il cane va via. Dove sta andando? Sta andando in... in che posto? Forse ci hanno abbandonato. Cosa c'è? Ok ok. Va bene. Uno. Uno però. Ok. Ok. Non guardarmi così. Ok un'altra. Questo è l'ultimo. Va bene. Ultimo. Basta. No. È inutile che mi guardi così. È l'ultimo. Vediamo cosa c'è in ferro. Latte. Latte roca. Ha una mela. Oh. E sono spariti. Andiamo fuori. Oh. Mi ha superato. Ma però ho vacanza qua eh. Siamo una spiaggia tutta per... che fine ha fatto la mela? O siamo da soli in spiaggia? Una spiaggia tutta per noi? Cavolo. Yeee. Vediamo un po' il cane. Il cane viene in pontile quindi seguiamolo. Ah ok. Allora. Barca. Barca. Qua. Ok. Ci può essere? Tutto qui bene. E sono spariti. Nella barca non ci sono quindi... Ehi Vicky. 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 Andiamo a secarli? Andiamo? Ah è un cane femmina. Andiamo? Dai. Sì. Allora? Eh dai. Ok. Tocca a me. Quella casa non l'abbiamo controllato. Allora? Credo che siamo qua dentro. Spero. La porta è aperta. Ma... Qua... Un armadio. Chiuso. Un po' di roba. Cos'è questo? Che cavolo. Che cavolo. Adventure Life. Le chiavi. Per fortuna ha lasciato le chiavi. Ok. Apriamolo. Sembra che siano le chiavi giuste. Niente. Non c'è 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 niente. Aperto finalmente. Ora vediamo cosa c'è. Tutti i tesori che abbiamo preso durante Uncharted. Ah, il carcifisso di Sandisma. Magna facti sercipimus. Credo di averlo dato bene. In teschio. Oh mio dio. Beh. Mica male. E quello? Libero. Csm. Rileggiamoci tutto. Ok. Nessuno possa leggerlo. Sì. Sapete già. Sapete già. Sapete già la storia. Non sto qua a leggerla. Colpo alla Gunsway. Non l'abbiamo cercato. L'abbiamo trovato. Ah, ma la vecchia Polaroid. Di quanti anni fa? Di quanti anni è sta Polaroise? E questa? La foto? Quella volta che Anciarda 2 ho Anciarda 1 Nascondi 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 Ho tornati Ok, un po' invecchiati, un po' Aia, ci stanno sgamando Non so neanche che cavolo dire Ah, che si chiama? Ok, ci hanno sgamato Ok, si è incazzato Ho visto tutto, o niente di che tutto ho visto E' un fucile Dobbiamo spiegare tutto? Eh, 35, no, 40 anni, 45 anni? Cioè, Nathan sembra 45, 50 Lei sembra, beh, verso i 40 anche lei Il discorsetto? Adesso dobbiamo spiegare tutto, tutto Ma sono una bambina Ma sono una bambina? Alla solito il tuo senno avevate già iniziato con queste cose Eh, beh, lo sai E sentite, se voi due eravate in un giro losco, per me non è un problema Un giro losco Ma penso di essere grandi abbastanza da poterlo sapere Abbastanza? Quanti anni hai? Quanti anni hai? No, 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 direttore Quanti anni hai, veramente? Mamma? Allora? Ma questo tipo Dal tono sembrava un cialtrone Se paghi il viaggio? Eh E per la cronaca, le ho dato quanto promesso Sì, e mi hai anche dato un patto a dei pirati indonesiani Pirati indonesiani Ma sai che non è stata contattata Ok, ok, fai male Stati dicendo che vi hanno attaccato dei pirati Dai pirati Che avete trovato la barra di Surprises Day È così? Sì, sostanzialmente sì Eh Cazzate Parolacci Non dire parolacci, sennò chiamo la polizia Bello Ok Ok Ok, cambiamo discorso Già Quindi Facceva schifo Ti sembra poco Una statua d'oro maledetta Ci vorrà un po' per spiegare tutto Di quanti anni è vecchia con l'attuto? Tipo E' tipo i trent'anni vecchia Di più anche Oh E' anche Uncharted è finito Che peccato Volevo portarla avanti per più tempo Ok ragazzi, Uncharted è finito qui Mi è davvero piaciuto portare questa serie nel canale Poi cosa voglio dirvi? Mi è piaciuto tutto Non play Cioè è stato un gioco Quasi 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 alla perfezione Non posso lamentarmi di niente Continuate a seguirci E Una cosa Vorrei chiedervi una cosa Io avevo in serbo una serie Di Fallout E' da un po' che non la porto avanti Da un po' che non la porto avanti Quindi nei commenti ditemi Se Volete I commenti ditemi Se Ditemi se volete che la porto avanti Ma Poi la porterò avanti lo stesso Ma se me lo dite la porterò La porterò prima possibile Ok? Ci vediamo e ciao a tutti Ciao a tutti